Monza-Roma termina con un mero pareggio, 1-1, questa partita di oggi, 3 maggio 2023. Il Monza di Berlusconi non brilla, o meglio, brilla a livello di statistiche, però non brilla nei risultati, infatti non raggiunge la vittoria. Stesso discorso per la Roma di José Molino. Vediamo i gol e le statistiche. Per il Monza il gol arriva grazie a Luca Calvirola nel primo tempo. Per quanto riguarda invece la Roma il gol arriva grazie a quel bomber di El Sharawi, che nel primo tempo la mette dentro. Risultato finale 1-1, abbiamo anche un'espulsione per la Roma, cartellino rosso per Charik, nella parte finale della gara. Statistiche tutte positive per quanto riguarda il Monza. Per quanto riguarda invece la Roma devo dire statistiche piuttosto fiacche. Leggermente inferiori, non di molto, ma di poco rispetto al Monza. Entrambe bravi con pagine sportive, ma il risultato è quello che conta. E sulla carta c'è un mero pareggio che non porta alcun tipo di positività nel Monza e nella Roma. Da Naradovitari è tutto. Ciao a tutti.